La regina Elisabetta regala la spilla dell'ordine reale a Kate Middleton Era bellissima Kate Middleton nell'abito custom made di Alexander McQuem, in occasione della cena organizzata in onore dei reali olandesi a Buckingham Palace Tutti hanno notato i gioielli, come la collana della famiglia donata dal principe del Galles Albert Edward alla moglie Alexandra di Danimarca per il loro matrimonio E l'iconica Tiara Loversknot, nota anche come Tiara dei nodi d'amore Cambridge, appartenuta a Diana e realizzata nel 1912 per la regina Mary Sull'abito a sirena spiccava anche una particolare spilla, un gioiello molto importante non solo per fattura ma anche per il suo significato, perché simbolo dell'ordine della famiglia reale della regina Elisabetta II Non tutti possiedono questo gingillo, per tradizione è la regina stessa a scegliere a chi donarlo, come ricompensa per il servizio Questi monili sono solitamente composti da una base in avorio su cui viene dipinto il ritratto della regina, e circondato da diamanti, mentre la montatura viene arricchita da un fiocco Nel caso di Kate Middleton, non è stato impiegato l'avorio ma il vetro, cambiamento che molto probabilmente è legato alla lotta del principe William contro il commercio di questa materia prima La spilla dell'ordine della famiglia reale può essere indossata solo in occasione di eventi formali o in presenza della regina Con quel delicato fiocco giallo, è stato quindi il complemento perfetto dell'outfit di Kate Middleton Perché il filmato della laurea del principe William e Kate Middleton è preziosissimo, anche, per la royal family Prima di diventare il duca e la duchessa di Cambridge, anche il principe William e Kate Middleton sono stati studenti universitari Il titolo reale, certo, non è una conseguenza diretta della loro laurea ma le competenze apprese in facoltà hanno senz'altro contribuito a renderli le personalità attive nel sociale che oggi dimostrano di essere Ce n'è di più, William è soltanto il secondo membro della royal family ad essersi iscritto all'università, il primo fu Carlo, ed è proprio tra i banchi di scuola che ha conosciuto Kate Fino ad allora, storia più contemporanea di così non si era ancora mai sentita a casa Windsor Oggi, a distanza di 13 anni dalla cerimonia di laurea che investì il principe William e Kate Middleton rispettivamente dei titoli universitari, era il 23 giugno 2005, è emerso il video della loro proclamazione Il breve filmato è un estratto del film Kate e William, a Modern Royal Romance, in cui la stessa duchessa di Cambridge viene chiamata con quello che è il suo nome di battesimo, ovvero Catherine Middleton Singolare invece è la scelta adoperata dal dipartimento accademico per chiamare William, il cui cognome appare qui come Vice Ma non è Windsor? Ebbene, in questo contesto specifico potrebbe essere stato scelto appositamente Vice per riferirsi al titolo reale di Carlo in quanto Prince of Vice, principe di Dallas Tant'è vero che oggi anche il principino George e la principessina Charlotte vengono chiamati a scuola utilizzando come cognome Cambridge, in riferimento ai genitori duca e duchessa di Cambridge Presente alla cerimonia di Laura anche la Royal Family al completo C'è una super orgogliosa regina Elisabetta, accanto a cui siedono il marito Filippo e un sorridente principe Carlo subito seguito da Camilla Shand E, sebbene il montaggio del video faccia apparire il principe William subito dopo Kate Middleton, The Telegraph riporta che in realtà i due non si susseguirono realmente quel giorno Si trattò di una cerimonia abbastanza intima e privata, se paragonata a quelle delle università statali, off course, circa 260 laureandi e 800 ospiti La University of St. Andrews in Scozia è anche il luogo felice in cui il principe William e Kate Middleton si sono conosciuti Ciò nonostante, l'esperta di Royal Family Katie e Nicole suggerisce che i due erano già stati presentati da un amico in comune prima di iniziare il college nel 2001 E, come se non bastasse, Kate Middleton si imbarazzò non poco quando conobbe William la prima volta Lo ha rivelato lei stessa nell'intervista annunciante il loro fidanzamento ufficiale nel 2010 E, come se non bastasse, Kate Middleton si imbarazzò non poco quando conobbe William la prima volta